ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e come avete capito dal titolo andiamo a parlare delle basi nuove che hanno fatto che ha fatto la femme sono stati gentilissimi di avermene omaggiate due poi ci sono varie colazioni scusate ci sono varie colorazioni poi andremo a mettere nel depliant nell'opuscolo e peccato qua che l'ho trovato spezzato il cioè vedete qui si è spezzato vabbè comunque fa niente allora loro mi hanno inviato questa qui che questa è la fiber builder base che lf 002 oggi non riesco a parlare scusatemi che questa bianca lattiginosa molto bella ed è già le aperte ma non le sono date applicate poi andiamo applicare insieme più in mano inviato questa qui che è l'hd builder base che la g 001 che è quella trasparente allora prima di andarvi a vedere tutto vi racconto vi spiego un attimo come funzionano allora cosa hanno in comune queste due basi queste due basi hanno in comune che sono auto livellanti ad alta densità quindi fanno aderire meglio il non il non stop color e non occorre il primer sono da usare solo per unghie difficili riempiono gli avvalamenti di lunghe naturali e permettono di fare piccole ricostruzioni sono sock off allora live file fiber builder questa qua questa bianca lattiginosa all'interno vitamine e fibre di vetro può fare praticamente da base vabbè può fare da base per il gel costruttore ed è più indicata per piccole ricostruzioni e invece la hd builder base è più indicata per semi permanente rinforzato con bombatura allora come si usano queste basi voi opacizzate praticamente l'unghia mettete nel prep mettete la base sgrassate e sigillate se invece volete applicare un colore mettete base opacizzate sgrassate e sigillate praticamente e se invece fate che ne so tipo una ricostruzione che questa va bene anche per la ricostruzione opacizzate sempre praticamente la la c'è quando fate la struttura ovviamente no che limate date la forma lunghi eccetera opacizzate bene e poi dopo applicate praticamente dovete opacizzare sempre dopo aver sistemato la struttura praticamente ok allora adesso andiamo a vedere l'opuscolo allora io vi ricordo e vi lascio sotto all'info box e andate a darci un'occhiata andatevi ad iscrivervi a scrivervi al loro gruppo su facebook che è la femchiocciola professional e poi comunque mi metto tutto sotto all'info box e del loro gruppo in più anche il link diretto per andare a vedere le loro basi ok e in più i link del loro sito insomma della fem di alias cosmetic e in più per il primo ordine c'è il primo acquisto che fate sulla fem avrete il 10 per cento di sconto poi vi metterò anche il codice sotto all'info box allora andiamo a vedere questo puscolino non stop color base coach collection le basi fondamentali per un manicure perfetta eccole qua ai poi mi stavo scordando ma c'è scritto anche nello puscolo che questi sono senza sostanze nocive in formula set free l'abbiamo detto con vitamine eccetera 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 quindi sono prive di sostanze nocive ok e le speciali formazioni arricchiti di vitamine calcio riforzano le unghie sottili fragili favorendo la rigenerazione praticamente hanno la durata comunque di oltre 21 giorni allora queste qui sono le basi allora mi è arrivata odio odio questa base qui la fila fiber builder base che questa qui bianca io se va vicino un po la telecamera vedete meglio che è perfetto e poi mi è arrivata l'hd builder base che questa qui come vedete dopo ci sono altre colorazioni vedete che poi questi rosa credo sia questo che questo sono adatti anche per il baby boomer infatti il bianco quello che io ho dato per fare anche il baby boomer quindi vedete la fila fiber builder base base ricostruisce ad alta densità con fibre di vetro potete realizzare ecco piccoli allungamenti ricostruzioni eccetera eccetera perfetto infatti dice le due tonalità queste qui queste sono disponibili per realizzare insomma l'effetto baby boomer poi invece c'è l'hd builder base quella che ho io questa qua anche quella trasparente è per effettuare piccoli allungamenti per correggere imperfezioni d'avallamenti all'unghia naturale allora io adesso vi andiamo a stedere insieme insomma queste due basi andiamo a vedere io solita questa qui allora andiamo a vedere questa qui trasparente che l'hd builder base che la g 001 infatti da come si apre molto molto densa bella molto molto densa quindi andiamola ad applicare vediamo com'è wow perfetta c'è molto densa si lavora benissimo si vede che sono autolivellanti eh adesso non vedete perché comunque la tip è bianca questa è trasparente ma c'è appena faccio così se vede che si muove guardate che figata voi non so se ce l'ho fatta per cipirlo ma faccio così se muove proprio cioè è fighissimo così poi come i colori autolivellanti c'è bellissima ok questa l'abbiamo messa senza che vada a catalizzare così le mettiamo insieme le vediamo subito oh andiamo a vedere quest'altra che è questa la fiber builder base questa è l'f002 e questa qui quella che ha le fibre di vetro questa bianca pure questo bello densa guardate che bel bianco non so se metto a fuoco bellissimo ok andiamo a vedere come si stende questa mmm si si è molto densa cioè guardate come si autolivellano c'è non fa strutture niente zero proprio cioè bellissima questa bianca è bellissima proprio infatti vedete guardate come si muove guardate che figa è un figo un po' guardate che roba proprio cioè bella tanto questa bianca bellissima cioè vedete c'è la riga dopo che scompare non c'è più cioè guardate quanto è liscia beh bellissima 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 ok adesso mettiamo in lampada ecco qui ragazzi eccole qua vabbè non vedete perché comunque come fosse una tipa bianca eccola qui questa qui è quella trasparente che sarebbe la G001 ve la ridico che è l'HD builder base e quest'altra che è quella bianca lattiginosa che è perfetta anche per fare il baby boomer come vi dicevo prima che è l'F002 la fiber builder base eccole qua cioè sono stupende veramente ragazzi è bellissima e niente ragazzi allora queste qui sono le nuove basi e non vedo l'ora sono curiosissima poi di provarle sulle mie clienti comunque su di me e comunque queste qui poco le colorazioni adesso a me perché mi hanno mandato quella trasparente ma comunque le altre colorazioni su rosa cioè comunque quelle come vi ho già detto anche prima basta mettete solo la base per dirvi e lucidate via e la colorazione è veramente bella molto molto naturale cioè mi piace veramente tanto non vedo l'ora di utilizzarle niente io spero comunque come sempre che il video vi sia stato utile per i vostri acquisti e che vi è piaciuto vi ricordo ancora che sotto all'info box quindi andate a cliccare mi raccomando nel loro gruppo andatevi a iscrivervi che sono molto disponibili come dicevo già anche nell'altro video e in più vi lascerò il link diretto per andare a vedere le basi e vi lascerò poi sotto anche il codice sconto del 10% per il vostro primo acquisto su la FEM su Alice Cosmetics io niente vi saluto vi mando un enorme bacio se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e sotto il video se volete commentatemi e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao